Contratti, non nel senso di participio passato di contraere, quando si lavora ci sono dei contratti di lavoro e veniamo assunti in base a un contratto, noi ai ragazzi in cultura di impresa a scuola vogliamo insegnare che il contratto è una parte burocratica ma è una parte di vita e di impresa, quindi in questo senso valorizza le persone e valorizza il lavoro.